atto di riparazione insegnato dall'angelo ai veggenti di fatima mio dio io credo adoro spero e ti amo ti chiedo perdono per coloro che non credono non adorano non sperano e non ti amano santissima trinità padre figlio e spirito santo ti adoro profondamente ti offro il preziosissimo corpo sangue anima e divinità di gesù cristo presente in tutti i tabernacoli della terra in riparazione degli oltraggi dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli stesso viene offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e per l'intercessione del cuore immacolato di maria ti chiedo la conversione dei poveri peccatori amen